Adesso sto scogliando il giorno. Per fare che cosa? Per fare una torta. Per fare una torta? Sì. Così diventa tutto liquido. Posso guardare un pochino dentro la pentola? Sì. E che cosa hai preparato da sopra? Eh, ho preparato da sopra le cose per fare la torta, la farina, lo zucchero, il burro, l'edio, la vaniglia e due oda. Mi dici qual è la vaniglia? Questa è la vaniglia, questo è il lievito. Adesso metto il burro qui dentro. Lo zucchero? Ora metti lo zucchero? Deve arrivare al 200. Deve arrivare al 200? Deve arrivare al 100. Quanta farina ci vuole? 100. sopra, lo zucchero? Come? un po' di più e poi si metto la vanillia Quanto ci ne metti? Quanto ci ne metti? Quanto ci metti? Quanto ci metti? Quanto ci metti? Adesso gli eppico! Quanto? Quanto ci metti? Quanto? 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 Pensi che basta? Mmmh, sì! Basta? Dai, io non me ne intendo proprio, Lore. Perché? Ma non l'ho fatto mai l'altro. Ora mi schio. Ma il latte ce l'hai messo? Ah no. Ce lo devi mettere o no? Dopo si mette. Ah. Beh, questi sono gli inconvenienti del mestiere. Mmmh. Insomma, la maniera è tutta fraccata. Ora metto il latte. Quanto ce ne vuole? Così poco? Ah, un po' per volta? Sì. Sì. Mmmh. Un'uova. Ora metto un'uova. Non ce l'ho messa. Ma speriamo bene, Lorenzo. Tu che pensi? Mmmh. No. Pensi che viene bene? Pensi che viene bene? Sì. Se metto niente viene bene. Ora metto l'altro uova. L'altro uovo. Mettete un po' di pezzetto. Un po' di pezzetto. Un po' di pezzetto. Un po' di pezzetto. Speriamo che non lo prendi. Forse... Che schifo! Come che schifo? Ma che stai facendo? Stai facendo un dolce o uno schifo? Ah ma un dolce. Prima metto un po' di panina, vedi, poi la metto qui dentro, un po' come sa già. Buono! Speriamo. Ora! Dai che i telespettatori mica possono aspettare, eh, i telespettatori vogliono vedere subito il risultato. Allora, come pomeriamo? Vediamo! Per Там, abbiamo che montato all'immo? M Biemi, b b b b b b, b b b b. e ti faccio a te No, continuo E adesso che stai facendo, va? Adesso Metto la farina Così scivola Ora la farina la metto qui dentro Così non la spreco Come va? Bene, bene Fammi sentire com'è venuta Prima col dito Poi col cucchiaino La prossima volta col cucchiaio E poi magari con la pava Ah, è vero È caduto? È caduto Lorenzo, ci arriva al forno quella roba? Eh? Ce la fai arrivare al forno? Sì Sì, a mezza tanto che te la mangi tutta prima Ora la metto dentro Il forno a quanto l'hai messo? Ah, il forno l'ho messo a... Ah, come non lo vedo Ma è 160 Ah, è vero 160 Ora la metto dentro Eora il forno è giro Sì, a mezza naturally Sì Sì s�